ciao a tutti ragazzi recentemente ho lanciato sul gruppo un'opzione cioè normalmente io non parlo di aspetti puramente tecnici della fotografia però siccome vedevo una carenza tecnica impressionante sul gruppo allora mi sono messo in disponibilità a rispondere a delle domande diciamo più tecniche l'unica opzione che ho dato è quella che queste domande debbano essere specifiche perché chiaramente se si tratta di fare un corso fotografico allora lì bisogna anche mettere in campo il fatto che va pagato visto il tempo e l'impegno che richiede però su una domanda specifica sono ben lieto di rispondere se sono in grado di farlo anche perché quando uno fa una domanda specifica significa che sta studiando no sta studiando poi ogni tanto ha un dubbio che magari non è riuscito a trovare che non è riuscito a comprendere ha bisogno di informazioni su quello specifico concetto e allora chiede ecco perché io rispondo volentieri a chi fa domande specifiche sempre se sono in grado di farlo perché chi fa domande specifiche stacce sta cercando stava facendo una ricerca invece le persone che non fanno ricerca fanno domande del tipo la luce in fotografia le ottiche in realtà non gli interessa vorrebbero soltanto la pillola la pillola magica no per arrivare da qualche parte funziona così la fotografia non funziona così e non funziona nulla così ecco che mi è arrivata la prima domanda intelligente la mia sorella tra l'altro perché sempre un piacere dove lei mi chiedeva una cosa molto interessante che tra l'altro non ho mai trattato anche se io spesso parlo di composizione che è la successione di fibonacci e la la spirale aurea che non è nient'altro che un modo per identificare una zona all'interno dell'immagine dove c'è l'occhio va più velocemente una zona dell'immagine che ha più potenza rispetto alle altre allora leggiamo da questo bellissimo blog fisici senza palestra la successione di fibonacci e la spirale aurea quando l'universo diventa armonia perché bisogna sempre partire dal concetto no dal perché poi questo questa spirale aurea è diventata qualche cosa che noi utilizziamo della composizione fotografica perché la composizione fotografica non è qualcosa che è nata così cioè il nostro modo di guardare la nostra evoluzione nel tempo le nostre scoperte matematiche la nostra osservazione della natura il nostro modo di guardarci intorno piano piano la nostra cultura la scrittura tutto ciò che è sta che è visivo nel tempo poi si è trasformato in qualche cosa che ha accomunato tutti noi nel modo di guardare e questo qualcosa che accomuna tutti noi nel modo di guardare poi è diventato quella che è la composizione che noi studiamo ma noi non è che studiamo la composizione perché esiste una composizione sulla quale appoggiarsi noi studiamo composizione perché è il nostro modo naturale di percepire il mondo quindi quando poi noi queste regole le rapportiamo alla fotografia siamo in grado di gestire un qualche cosa che naturalmente noi siamo predisposti ad avere dentro poi la tecnica non è nient'altro che mettere al servizio questa nostra conoscenza tavica di qualche cosa come la fotografia no o come qualsiasi altro tipo di arte visiva quindi tutto quello che noi sappiamo sulla composizione tutto quello che noi studiamo in realtà esiste già in natura quello che noi abbiamo fatto non è nient'altro che rendere matematico quel qualche cosa che la natura ci mostrava in maniera naturale davanti a noi così che la spirale che magari noi ritroviamo in una lumaca piuttosto che in una galassia l'abbiamo matematicizzata abbiamo cercato di conteggiarla anche su questo aspetto bisogna stare attenti perché non è che matematicizzare qualcosa significa tecnicizzarlo in realtà quella che noi abbiamo intorno è tutta matematica solo che esiste una matematica che noi sappiamo contare esiste una matematica infinita che noi percepiamo ma che non siamo in grado di conteggiare anche per questo abbiamo inventato il computer quindi non c'è che non guardate alla matematica come qualcosa di freddo in realtà la matematica non è nient'altro che la logica applicata all'universo poi questa logica è talmente immensa talmente infinita che la matematica diventa così sottile così impercettibile che noi la percepiamo come materia sottile come spiritualità ma sempre di matematica si tratta ecco perché poi la forma all'interno delle fotografie è così importante ed ecco perché è importante entrare dentro quel concetto di fotografia che non sia solo un qualche cosa di emozionale ma sia anche consapevolezza perché noi pensiamo che emozionarci davanti un'immagine è già già fatta e qualche cosa di bello in realtà l'emozione è solo una fase la consapevolezza dell'emozione è qualche cosa che ci porta alle profondità di quello che noi stiamo guardando e che ci riporta poi alle simbologie a tutto ciò che dietro un'immagine c'è perché nel nostro modo di guardare c'è il nostro modo di affrontare la vita cioè la vista è qualche cosa che si evolve giorno per giorno ogni volta che noi ci alziamo ci guardiamo intorno ci stiamo evolvendo a livello visivo ecco forse perché a un certo punto guardiamo tutti le stesse cose perché abbiamo smesso di evolverci e quindi quando fotografiamo non stiamo facendo nient'altro che mettere a disposizione dell'altro quello che noi abbiamo guardato leggiamo un po questo blog spesso siamo talmente impegnati nelle frenetiche faccende quotidiane da non renderci conto dell'ambiente che ci circonda vi premetto che questo è un blog di fisica e sembra che parli ai fotografi renderci conto dell'ambiente che ci circonda di quanto la natura pur nella sua semplicità sia armonica e simmetrica in ogni suo aspetto per comprenderla pienamente l'uomo necessita di strumenti adatti citando galileo galilei e ascoltate questa frase di galileo galilei se non è per i fotografi la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi io dico l'universo ma non si può intendere se prima non si impara di intenderla lingua e conoscere i caratteri nel quale è scritto egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli cerchi ed altre figure geometriche senza i quali mezzi è impossibile a intendere umanamente parola senza questi a girarsi vagamente per uno scuro labirinto cioè lui ci sta dicendo che le forme che noi percepiamo intorno e che noi cerchiamo di raccogliere poi sono una matematica che ci permette di avere un senso nella vita perché se noi non abbiamo un punto di riferimento formale non siamo in grado di muoverci ci muoveremmo nel buio più totale il primo strumento di cui abbiamo bisogno è la nota successione di fibonacci introdotto per la prima volta da leonardo da pisa meglio noto come fibonacci poiché figlius bonacci il figlio di bonaccio come soluzione alla modellazione matematica della crescita di una popolazione di conigli in n mesi ipotizzando che ogni coppia di conigli impieghi un mese per diventare adulta e un secondo mese per procreare un'altra coppia in pratica senza andare troppo nello specifico la sequenza di bonacci funziona così ogni termine è la somma dei due termini che lo procedono 1 1 1 più 1 fa 2 2 più 1 fa 3 3 più 2 fa 5 5 più 3 fa 8 chiaramente questo tipo di questo tipo di sequenza da poi origine ad una serie di di logiche anche geometriche no unendo questo questa sequenza matematica a quella che è la spirale leggiamo un attimo a questo punto è interessante chiederci c'è qualcosa che comuni che accomuna l'ammirabile disposizione dei petali di una rosa l'armionosa spirale di alcune conchiglie l'allevamento di coniglie la successione di fibonacci la risposta è ovviamente affermativa dietro questa realtà così disparate si nasconde sempre lo stesso il numero razionale sempre lo stesso numero irrazionale comunemente indicato con la lettera greca fi mi sembra che sia la lettera greca il numero è 1,6 cioè esiste una proporzionalità che accomuna un certo modo di disegnare la natura alla sequenza di fibonacci praticamente noi quando andiamo a disegnare la spirale aurea sopra un'immagine fotografica non stiamo facendo nient'altro che prendere una spirale logaritmica e con coefficiente con numero costante 1,6 e legarla alla sequenza di fibonacci so che può sembrare complicato ma non lo è in realtà stiamo legando una una sequenza numerica a una forma geometrica perché questa forma geometrica è dettata dalla natura non è che è presa a caso e anche la sequenza di fibonacci è nata per tentare di rendere logico un qualche cosa che lui osservava della natura andiamo alla parte fotografica da qui nasce questa qui che vedete sulla destra che è la famosa spirale aurea vedete non abbiamo fatto nient'altro che unire la spirale al sistema di fibonacci vedete vedete 5 più 3 8 8 più 5 13 13 più 8 21 21 34 praticamente questi numeri corrispondono a questi rettangoli alla proporzione ci hanno la proporzione con questi rettangoli che sono poi parte di un rettangolo a questi quadrati scusate che sono una parte del rettangolo che in questo caso è il frame della fotografia quindi questo punto creato dalla spirale di fibonacci può essere ricavato sia attraverso l'unione tra la spirale logaritmica e la sequenza matematica ma anche attraverso quest'altro tipo di formula cioè si traccia la diagonale del rettangolo e poi si prendono le due brisettrici degli angoli opposti e questi punti sono dette zone auree che cosa sono le zone auree sono le zone dove l'occhio va con maggior frequenza e sono i punti all'interno del rettangolo dove c'è maggiore informazione maggiore forza cioè se io metto il soggetto di una fotografia nelle zone auree questo avrà più forza l'occhio andrà prima lì e poi nelle altre parti adesso avete presente immagino la regola dei terzi scusate se viaggio da un'immagine all'altra ma non mi ricordo dove l'ho messa eccola qua questa è la regola dei terzi no vedete queste sono le zone auree la zona aurea questa centrale e i punti auri sono questi la regola dei terzi non è nient'altro che dividere in nove rettangoli il rettangolo del frame della del sensore della pellicola l'incrocio di dei rettangoli da questi quattro punti che sono i punti principali con le loro linee di forza allora la regola dei terzi non è nient'altro che una semplificazione del della regola di fibonacci infatti se voi vedete dove confluisce la spirale è lo stesso punto della regola dei terzi infatti noi poi possiamo immaginare la spirale in questo modo vedete 1 2 3 4 a seconda di come la giro ottengo i quattro punti adesso qual è la differenza tra la regola dei terzi e la zona aurea semplicemente che nella spirale aurea noi prendiamo in considerazione quella che è la terza dimensione della fotografia cioè la profondità cioè la spirale è qualcosa che tende alla profondità mentre se noi concettualizziamo la regola dei terzi abbiamo in mente un qualche cosa di su due dimensioni no la spirale aurea ci fa vedere qualche cosa che va in profondità quindi quando noi non solo qualcosa che va in profondità ma ci parla di un altro aspetto fondamentale del nostro modo di vedere cioè nel fatto che noi percepiamo il nostro modo di vedere in alcuni aspetti è curvilineo non è rettilineo o meglio noi quando guardiamo da sinistra verso destra guardiamo in maniera rettilinea probabilmente questa cosa qui nasce dalla scrittura no dal fatto che scriviamo in un certo modo tanto è vero che poi in altre culture dove si scrive da destra verso sinistra probabilmente il modo di leggere le immagini opposto oppure in culture dove si scrive dall'alto verso il basso le foto hanno una simmetria maggiore per esempio no però noi in generale percepiamo le cose guardando da destra verso sinistra come fossero delle linee ma noi quando guardiamo dall'alto verso il basso invece percepiamo scendiamo come se guardassimo in maniera curvilinea cioè l'occhio guarda in maniera curvilinea questo nasce da tante cose ataviche molto probabilmente anche dal fatto di avere davanti a noi delle figure tondeggianti come l'essere umano comunque noi guardiamo dall'altro verso il basso in maniera curvilinea e da destra verso sinistra da sinistra verso destra in maniera rettilinea ecco che questo tipo di spirale riconduce a questo nostro modo di guardare curvo ci siete non solo ma la fotografia non è un qualche cosa di statico e di fermo quindi attraverso la spirale di fibonacci noi possiamo risalire al nostro modo di muoverci all'interno dell'immagine come l'occhio corre all'interno della fotografia voglio farvi degli esempi prendendo in considerazione delle mie fotografie che io poi ho sovrapposto a questa spirale così fatta per esempio prendiamo ad esempio questa immagine qui allora in questa immagine qui il punto di forza io l'ho identificato in questo punto qui vedete uno potrebbe dire sì va beh è un punto di forza relativo non la potevo mettere ovunque no perché questo è un punto di grande contrasto vedete l'arco la luce come cade in questo punto ma non è solo questo vedete come per esempio la curva in alto richiama la figura di fibonacci vedete l'arco vi assicuro che io queste cose qui le faccio in maniera naturale non è che qualche cosa che io vada a studiare non è che io ho composto sulla regola di fibonacci è che quando tu hai capito le regole della composizione poi certe cose sono già in te devi soltanto studiare prima e lasciarti andare poi ecco che questa immagine qui al suo punto di forza qui però poi che succede che la profondità fa viaggiare l'occhio da qui a qui vedi e quindi io poi faccio questo giro qui vado da questa parte e poi mi muovo così ecco come si muove per esempio l'occhio in questa immagine vediamone un'altra qui qui addirittura è opposta vediamo se la trovo vedete pure qui qui abbiamo un modo di muoversi in questo senso verso il cerchio in alto oppure in quest'altro senso dettato dalle dagli archi in alto vedete se io la cancello vedete però che l'immagine ha sempre una profondità perché si muove in maniera circolare di qua e di qua però poi l'occhio va qui e poi viene spinto in profondità è come se fosse una spirale la profondità la terza dimensione in fotografia è un senso di spirale ecco perché è complicato comprendere la regola di fibonacci perché noi siamo convinti di avere a che fare con qualcosa a due dimensioni e quella serve a percepire la terza dimensione vediamone un'altra d'immagine in questa stesso discorso vedete come si muove l'occhio all'interno dell'immagine guardate come le geometrie delle cose che stanno intorno accompagnano un po l'occhio e non vi fossilizzate sul fatto che le cose non stanno esattamente su sulla spirale perché non è quello il senso la spirale ci dà un senso di movimento dell'occhio dovete pensare in maniera più dialettica dovete immaginare come questo movimento sia interiore come è un senso di profondità che noi abbiamo dentro di noi ecco perché la spirale a volte ci dà quel senso di vertigine no perché è come un entrare dentro ecco perché è molto importante comprendere questa regola non tanto per mettere in questo punto preciso l'elemento forte ma quanto per comprendere il movimento dell'occhio cioè se noi siamo in questa zona è chiaro che poi l'occhio va qui ma va qui perché qui c'è una zona illuminata ha camminato ed è arrivato qui ecco che io con l'occhio prendo tutta la fotografia anche in una fotografia dove le linee sono esattamente verticali e dove non ci sono linee tonde praticamente vediamo un'altra in questa c'è c'è probabilmente anche più di una regola che si può guardare però pure qui stesso discorso no l'occhio cammina e arriva da questa parte sul tavolino vedete vi faccio vedere tutti i punti di forza dove la regola di fibonacci si ferma alcuni più forti alcuni meno forti no pure qui questo muro ha la sua forza perché è un momento tra due colonne vedi allora se l'occhio viene chiamato da questo poi improvvisamente attratto da queste due forme tridimensionali e anche qui c'è una profondità quindi immaginate la fotografia come delle forme bidimensionali che poi devono riportare a una terza posizione una terza dimensione scusate e immaginate come il punto aureo dove può esserci il soggetto o può esserci un qualche cosa che poi mi avvicina al soggetto se il soggetto fosse qui l'immagine sarebbe più statica perché sarebbe ferma no se invece il soggetto si trova nei pressi della zona aurea a quel punto l'occhio comincia a muoversi ma quando si muove deve muoversi attraverso una sua logica se no la foto diventa caotica ecco perché sono fondamentali queste cose vabbè non so se sono stato in grado di spiegarvi il senso ho cercato di farlo attraverso delle mie fotografie così voi vedete come io utilizzo questa regola ripeto io non è che la utilizzo io queste cose le ho fatte a posteriori quando mi hanno fatto la domanda ha preso delle mie foto e ho provato a fare degli esperimenti e mi sono reso conto di questo aspetto ma in realtà la fotografia è tutta così cioè ci sono delle forme e c'è una terza dimensione di profondità la foto se è statica no per esempio nel caso di un ritratto allora la profondità deve essere data dal concetto stesso da uno sguardo da un momento se invece è un'immagine formale e siamo all'interno di un di un soggetto fisico tipo è questo all'interno di una bazzia a quel punto l'occhio deve camminare viaggiare allora il saper utilizzare la staticità e quindi la profondità psicologica di una foto o la profondità nella tridimensionalità creata dalla luce sono tutti elementi fondamentali che devono confluire insieme la grande fotografia oltre ad avere la sua formalità oltre ad avere la sua profondità oltre ad avere il significato ha anche quell'aspetto che tradisce tutte queste regole ma le richiama a livello interiore che è la poesia alcune immagini sono poesia ecco quando uno riesce ad unire queste regole la profondità di significato la profondità di divisione e a tradirle però lasciando inalterato al significato oppure a tradirle per evidenziare il significato allora sta facendo fotografie ad alto livello e ad altissimo livello possiamo anche parlare di arte perché no